Bentornati a Live on the Ball! Dopo tanto tempo riaccomi qua con un nuovo tutorial e come potevo tornare senza una split? Oggi vi mostrerò The No Hand Split! Inversione, Outside Leg Hang e mi ritrovo in P. Dalla P andrò a staccare il braccio superiore ed imbraccerò il palo e la gamba dall'interno. Mi raccomando dovete sentire la pancia premere contro il palo. Più riuscirete ad avvicinare l'ascella al palo e più la vostra presa sarà sicura e forte. Una volta che sono arrivata in posizione posso roteare la gamba inferiore e andrò a prendermi la caviglia con la mano libera e stenderò la gamba superiore. Per uscire dalla posizione andrò a riagganciare la gamba al palo e mi ritroverò in P. Da qui mi potrò trazionare e ritrovarmi in pull up seat. Per rendere le cose più semplici, solo quando sarò andata ad imbracciare il palo potrò andare a ruoteare verso l'esterno la gamba inferiore. Da qui staccherò il braccio inferiore e andrò a prendermi la caviglia. Rivediamolo a velocità normale, inversione, outside P, imbraccio il palo, ruoto la gamba inferiore e vado a prendermi la caviglia. Questa posizione si può effettuare sia in spin che in statico. Buon allenamento! Spero che il tutorial vi sia piaciuto e al prossimo video! Grazie! Grazie!